Manca un ultimo tassello per chiudere le indagini sulla rapina a mano armata nell'abitazione del notaio gamberale. Dopo i due arresti dello scorso weekend i carabinieri del comando provinciale di Sernia si sono messi sulle tracce di un altro complice. Gli investigatori dell'arma lo hanno identificato grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente dentro e fuori il palazzo di via Libero Testa. La presenza di una terza persona durante il tentativo di rapina è stata confermata anche da alcuni testimoni. Sugli sviluppi delle indagini i carabinieri mantengono il massimo riservo ma l'impressione è che il ricercato abbia ormai le ore contate. Si chiuderebbe così il cerchio intorno a una vicenda che ha destato molto clamore spavento in città. La risposta delle forze dell'ordine è stata comunque notevole. Dopo l'allarme lanciato da un familiare gli uomini dell'arma hanno arrestato il quarantenne di Aprilia che armato di una pistola semi-automatica era piombato in casa aggredendo la moglie del notaio gamberale. Lo hanno fermato per le scale del condominio mentre cercava di scappare. Subito dopo si sono concentrati sulla complice. La donna di 33 anni, anche lei di Aprilia, è stata rintracciata l'altra notte a Pomezia in un locale gestito dai suoi familiari. Dopo le formalità di rito è stata rinchiusa nel carcere femminile di Re Bibbia in attesa dell'interrogatorio. Ora l'attenzione è concentrata sull'altro complice ma al tempo stesso si indaga anche per cercare eventuali collegamenti con persone di Sernia o della zona. Qualcuno in pratica potrebbe aver suggerito un colpo sulla carta semplice ma che invece per i rapinatori in trasferta è finito malissimo.